...dalla Consiglio, è vero, ma deve considerare che i tempi dell'approvazione del bilancio sono stati spostati tutti, ma adesso termino un ultimo periodo domani. Ma che appena la sessione di Roma sarà importante lo scorso per la passata di sessione, perché quando aveva fermato il periodo la partecipata dovrebbe presentare due mesi per prima il periodo finanziario. Su questo argomento, che è stato un argomento di fortissima discussione nelle commissioni di bilancio, il punto 1 era chiaro e evidente, c'era una richiesta di aumentare la data, quindi doveva intervenire e continuare a fare l'esplicitamento, secondo il sindaco in cui la persona si è fatto carico di decidere una nonifica del piano di uso del caso di un'esplicitamento, che chiaramente valutasse un'esplicitamento economico che aveva sentito l'amministrazione di non produrre un periodo, un periodo, un periodo, un periodo della data dell'esplicitamento. Adesso, per questo che la documentazione non lo trova, la documentazione è stata un'esplicitamento che ha fatto, e quindi quando riguarda gli atti che vengono posti alla visione possibile, non viene risposta dall'ufficio, è chiaro che il piano di studiare, in un partito che lei ha detto precisamente, è terminato il periodo finanziario, soprattutto dalla cazzo di attività. Quando c'è stato questo punto, qualche richiesta, qualche davanti in un giorno in cui ho traslesso la robbia, cioè l'ufficio, ha ritenuto a quel punto che era sufficiente per far riferimento al piano industriale, qualche consigliere di ragionanza, evidentemente, avevano qualche confronto anche con consigliere di opposizione, ha chiesto, scusate, ma si può avere il piano predisposto alla cazzo dell'ambiente? Perfetto. Comunque il Presidente del Consiglio ha avuto il punto della richiesta a trasmetterlo a tutti i consigliere. Credo che alla fine, la forza di un cambio, la violenza per interessare il consiglio di opposizione, il consiglio di ragionanza e la cittadinanza, che alla fine, alla fine, grazie a un fuoco che si non scompe, a una notizia, intenzione di termine questa, per la prima volta, da quando esiste la partecipata a Casoni, si incide sul canale di questa, della partecipata. C'è da lì l'automico consigliere, c'è da incidere l'ultima discussione, ma su questo che stiamo lavorando? Grazie, siete venuti. C'è lo scusato, c'è lo scusato, scusato alla consigliera Vignatti, c'è una in un consiglio, poi dopo le davano alla propria, consigliere federale, poi a seguire tra noi del Paese.